Eccoci qui, come promesso, anche oggi abbiamo grandi ospiti. Sono venuti a ritrovarci l'orchestra Gabris. Gabris e Daniela qui con noi oggi. Ciao a tutti, benvenuti. Benvenuti a voi, Black or White, oggi, bianco e nero vestiti, bellissimi. Siamo. Pronti per cantare. Certo. Tra pochissimo sentirete una bellissima canzone dalla voce di Gabris e Daniela, un pezzo di Modà, giusto Daniela? Sì, certamente, un bellissimo pezzo di Modà che si chiama Come un pittore. Beh, io, tra parentesi, l'adoro, mi piace molto. Sì, 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 infatti non vedo l'ora di sentirvi. Ma facciamo due chiacchiere perché siamo arrivati proprio purtroppo al fine dell'estate, ragazzi. Qui è finita e com'è andata? Com'è andata questa estate? È andata alla grande. Visto che siamo alla fine ringrazio tutti gli amici che sono venuti a trovarci sulle piazze. Continuate a venire, a ruggare ad essere in festa e noi ce la metteremo tutta. Avete sempre un bel seguito, voi avete un gruppetto che vi segue? Sì, sì, un gruppetto molto affiatato, lo sai, noi siamo molto autotoni, diciamo, nel nostro territorio, siamo molto attaccati alle nostre tradizioni. È vero, è vero, è vero. Ha potuto svelarci qualcosa per l'inverno? Ma chi lo sa, non svegliamo niente, ma forse, forse arriverà qualcosa, non lo sappiamo. Non ancora, c'è in cantiere esatto qualcosa. In cantiere aperto. Mi suggerisci Gabri, esatto. Va bene, allora continuate a seguire a essere in festa, così intanto, innanzitutto, vediamo il video dell'orchestra Gabris e poi vi sveleremo anche se ci sarà qualche novità, qualche viaggio, insomma, questo pian piano, perché l'inverno è molto, molto lungo, purtroppo sì. Bene ragazzi, allora io vi lascio subito il palco perché voglio proprio sentire come un pittore. Mi raccomando, vi aspettiamo qui anche prossimamente a essere in festa. Certo, volentieri. In versione invernale mi voglio con il pulovere, esatto, va bene. Grazie per la vostra visita. Ciao, grazie.